Siamo abituati a vedere la nostra Italia, trovandosi lì, il territorio è diverso, la gente è diversa, l'impatto non è semplice, no. E quando si arrivò a Victoria Station, c'era il mio babbo a incontrarci, io lo riconobbi, ma la mia sorella non lo riconobbe, aveva tre anni meno di me. Lei pensò, chi è questo uomo che ci faccia tutti? C'era tanta diversità, da un paese, da un villaggio, a una città, c'erano questi tram, queste macchine, una cosa che sbalordiva. Oh mamma mia, che posto tutto scuro! Già là il progresso, già là c'era la televisione, ce l'avete anche in tempo di guerra loro. C'era 50 anni di progresso rispetto a noi, là dove è, c'era 50 anni di differenza. Insomma, non fu tanto bello, ma qui si stava meglio perché uno sortiva fuori, parlava e lì invece non c'era niente. Non potevamo parlarvi, non potevamo, non capivamo la lingua e tutto così. Il porto era tutto coperto, tutto chiuso, non si vedeva niente ecco. Dopo quando venni fuori vedevo tutti questi grattacieli, tutte strade larghe, tutto diverso, sì che in flessione. Prima di tutto, sa che cosa mi colpì? L'odore del carbone, quel carbone fossile che in Italia non si sentiva, ma in Inghilterra quello sì, e poi il cielo un po' più grigio e tutto un altro mondo era. E sì, vedevo quei campi così grandi però senza coltivare, che noi si levava i sassi per esempio, dove c'era qualche sassi si faceva un altro campo per tenere di più, molto ingegnosi, differente all'Argentina. Andavamo così per la strada a vedere sacchi di pane così, buttati via. E qui no, per l'amor di Dio, si faceva una volta la settimana il pane. Io sono sempre stata ambiziosa che volevo vedere i paesi. La Svistria è bellissima, l'impressione è stata bella, però la lingua non si capiva nulla. Io penso che a quel tempo lì, di noi qui, Toscani, andare in Svizzera, si trovava un cambiamento come forse quelli del sud venendo in Toscana. Allora andando in Svizzera, quando si è arrivato in Svizzera, qualsiasi casa, banni già di lusso, gente che studia di più, un po' come i tedeschi, facevano più scuola, erano più scuola, erano più scuola, erano tanto più avanti di noi. Quindi era un po' diverso, la terra era diversa. In Canada, come sa, c'è il progresso, è una nazione ricca e di fatti fui molto contento di essere andato là. Sinceramente, da quando montai mesi piedi sulla nave, i miei problemi cessarono. Arrivati là, un'accoglienza immensa da tutti i parenti, tutti venivano a trovarci, tutta una festa, tutti i regali, insomma, un'accoglienza bellissima. Andai via come turista, mi misero una persona a tutelarmi, perché io era la prima volta che un signore, ma non era come ora che si scende all'aeroporto e si va subito dentro. Io mi scesi a New York, 34 ore a New York, lì si è direto una banchina e questo, andò per i fatti suoi e mi disse quando l'ora sta lì, dice che quando l'ora io venga ritirati. E io avevo bisogno di andare a Tue Rette e non potevo domandarla a nessuno, perché tutti uovovovovovovovovovovov. e io mi messo a piangere di se potessi tornare indietro, allora trovai una giudea italiana e mi insegnò, diceva è lì, ma io sentivo dire, ma io non capivo che mi chiamassi in me, no? E quando si arrivo là, io siccome ero minore, mi venzi a prendere l'autorità e si scesero tutti quelli che erano così, come me, tutti in fila, i primi che scendessero tutti gli altri e si portarono in una stanza tutti giù, dall'altra parte c'erano i tutori che avevamo richiamato. Uscendo da Amatraia, andare a San Francisco che è una bellissima città, vero Isa, grande, bella proprio, le casse, tutti avevano già la televisione, tutti avevano già il frigorifero, era già, era la merita, stavano tutti bene, tutti avevano la macchina, ognuno aveva la casa, poi noi si veniva dalla campagna, poi siamo andati in una città, Quello è stato per me, vedere la televisione in ogni casa.